Mini crisi in Consiglio regionale nel secondo giorno della sessione di bilancio con il centro-sinistra rimasto senza i numeri per approvare lo strumento finanziario e l'accordo trovato solo in serata per i via libera. Siglato un nuovo documento in cui si mette nero su bianco, nei metodi e nelle priorità, nell'operato della maggioranza voluto dal consigliere regionale Mario Rivieri e dall'assessore regionale dell'area interna Andrea Gerosolimo. Chiediamo di contare di più, chiediamo una svolta nelle politiche delle aree interne e quelle relative alla sanità. Vogliamo essere messi in grado di poter rappresentare gli interessi dei territori che ci hanno votato per risolvere i loro problemi, hanno spiegato Rivieri e Gerosolimo. Il documento è stato firmato anche da Donato Di Matteo, assessore del Partito Democratico che ha lasciato con il fiato sospeso la maggioranza arrivando a seduta iniziata. La sottoscrizione del documento è la condizione per i tre, che già sono arrivati nell'agosto del 2015 ma in quel caso i ribelli Demmer, Luciano Monticelli e poi a ottobre di quest'anno i fericorti con il centro-sinistra per chiudere la partita e votare il bilancio.